12 misure cautelari di cui due custodi e cautelari in carcere, uno agli arresti domiciliari, quattro divieti di dimora nelle province di Crotone e Catanzaro e cinque obblighi di presentazione alla Polizia Giudiziaria. 47 decreti di perquisizione locale e personale a carico di altrettanti indagati con contestuale avviso di garanzia. Questa in numeri la complessa indagine su una delle organizzazioni dedicate al traffico illecito di reperti archeologici che ha coinvolto anche la città di Cosenza e denominato operazioni Tempo di Era. Le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone e in particolare dal procuratore Giuseppe Capoccia e dalla sostituto Luisana di Vittorio e condotta dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cosenza. Tutto nasce da un'inchiesta originata nell'ottobre del 2014 a seguito dei numerosi scavi clandestini rilevati in siti archeologici del Crotonese, conclusasi nell'ottobre del 2015, che ha consentito di identificare i componenti di un ramificato e ben strutturato suo delizio criminale in grado di gestire tutte le fasi del traffico illecito di reperti archeologici. Bersaglio prediletto dei tombaroli era il sito archeologico di Capocolonna, uno dei luoghi simboli della Grecità d'Occidente, tra i più famosi della Calabria ed uno dei santuari più importanti e meglio conosciuti della Magna Grecia. Le fasi del traffico illecito dallo scavo clandestino alla vendita dei reperti ai collezionisti sono state accertate e documentate grazie ad intercettazioni telefoniche e ambientali, riprese video e pedinamenti, arresti in flagranza di reato e sequestri. Particolarmente efficace si è dimostrata la gestione dei reperti archeologici trafugati che, attraverso una fitta e collaudata rete di contatti, senza difficoltà venivano immessi sul mercato clandestino, garantendo l'auti guadagni. A capo del Sodalizio, un settantenne crotonese, Pasquale Giuseppe Attianese, molto noto negli ambienti culturali ed accademici, per aver partecipato quale relatore a numerosi consessi e corsi di archeologia, ergendosi a paladino dell'archeologia crotonese. Grazie alle sue vaste conoscenze in materia, quale principale promotore del locale traffico illecito, indirizzava le squadre di tombaroli, traendone i frutti del saccheggio verso le aree del crotonese non ancora indagate dall'archeologia ufficiale incurante dei metodi di ricerca utilizzati. Sono stati sequestrati numerosi reperti archeologici di notevole interesse storico, artistico e di rilevante pregio. I soggetti destinatari delle predette misure cautelari, ritenute responsabili di associazione per delinquere e dei di tale esecuzione di scavi clandestini, in possessamento illecito di reperti archeologici appartenenti allo Stato, so con conseguente danneggiamento delle aree vincolate e ricettazione dei beni illecitamente ricevuti. Sono Pasquale Giuseppe Attianese, professore in pensione, autore di diversi libri di numismatica ritenuto il capo dell'ipotizzato sodalizio criminale. Vincenzo Godano, operaio tombarolo, arresti domiciliari invece nei confronti di Carmine Francesco Verterame, Francesco Salvatore Filocamo, Luca Filocamo, Francesco Arena, Antonio Pasquale Fabiano, Giovanni Luigi Lettieri, Raffaele Malena, Ernesto Palopoli e Salvatore Rocca.